A Cincinnati, Dimitrov asfalta su gita. Grigor Dimitrov scala le marce e ferisce pesantemente un i wiki su gita spossato e spaesato. Semifinale al Western e Southern Open, per lui Donaldson o Isner. L'esplosione a sorpresa dell'esperto nipponico. Balenava nei tornei minori i wiki su gita, remava allegramente tra i challenger europei. Poi la svolta, la scoperta dei tornei veri, l'entrata vorace e veloce nel mondo ATP. Agile e leggero sulle gambe, discreto con dritto e rovescio. Affronta Grigor Dimitrov, l'incantatore bulgaro, che poteva mietere ancora più vittime ed ottenere riconoscimenti importanti. Costante nella sua incostanza. Parte bene Dimitrov, pressante e imbattuta ed intelligente ad aprirsi il campo subito in uscita dallo stesso, trovando un'invidiabile profondità. Sugita non tiene ritmo e fatica enormemente a leggere le traiettorie dei colpi piatti e pesanti di Dimitrov. Il giapponese non chè, non ha della partita, serve piano, senza mordente, con Grigor che, invitato a nozze, si prende anche le briciole. Assorbe tre errori goffi del suo dirimpettaio, dritto in avanzamento evitabile, e due colpi a rete, e poi gli strappa il servizio. Dimitrov è perfetto, viaggia su un altro pianeta al servizio, e concede nulla anche con l'opzione 1-2. Finalmente anche sugita si sblocca al servizio, ma rischia sempre qualcosa, nel 6 grado game sbaglia due volte da fondo, prima di regolare il mirino e prendersi il game. Sul 5-2, ecco l'accelerata decisiva, Dimitrov trova profondità sul suo servizio docile, sugita e lento e non trova gli appoggi, finendo con il corpo indietro e colpendo a rete. Scende 0-40, ma ritrova servizio e dritto nel momento più delicato. Ha i vantaggi, però, tornano gli spettri, sbaglia un becco un taglio esterno, e sparacchia malamente il dritto. Dimitrov, fonte, chiocciola live tennis twitter. Secondo set che non sembra voler cambiare trama. Dimitrov solido e profondo, perfetto anche sotto rete, sugita boccheggiante e da corrente alternata. Nel 2 grado game, è già break. Soffre tremendamente lo slice tagliato e basso di Dimitrov, non trovando teaming sulla palla. Come al solito, trova ristoro nel servizio, ma viene punito con una demi-volea deliziosa e cede il servizio. Sugita si spegne definitivamente, concede un altro break con le stesse modalità del precedente. Dimitrov va a tempo anche per lo show, volè e intuffo per le telecamere, mentre il match scivola via. Sugita, fonte, chiocciola live tennis twitter. .